Direttamente dalla Sardegna qui a Milano per CatalanTV e abbiamo incontrato degli amici Vogliamo ricordare i vostri nomi? Enzo Polidoro, Di Mazzilli e... Quale mezzo chi è? Fare, fare, qui non viene mai nessuno a farmi tutto Ci sarà un motivo, ci sarà un motivo di nessuno Allora stasera che fate ragazzi? Grande show, grande show in una piazza nuova Sì, a palazzo della regione lombardiere Grazie a questo signore, guarda, in quadro Inquadriamo il signore, via Metico, un saluto a tutta la Sardegna Andare ad Alguero in compagnia dello straniero Vabbè, ma che se io pago, cioè qua vanno a fare... Tra un po' diamo le pastiglie, tranquillo Allora siamo pronti per iniziare questa sera questo show Salutiamo il gestore, salutiamo la ragazza del centro di recupero Poi abbiamo Enzo, quindi ci ricolleghiamo tra poco Vediamo? Lo sai che ad Alguero va di moda lo spritz? Come lo fate col Canonau? Invece posso fare un selfie con la macchina? Guarda che bella, guarda che stai Questa è nuova, è wireless, va direttamente in rete Altro poco allora, per Catalan TV, in esclusiva Eccola qua E lei, è Claudia Attenzione signore, ci stiamo intanto al gabinetto con Claudia Ma coltronista com'è finita? Beh, ci siamo fidanzati Coltronista? Ma poi finita come tutte le storie Vabbè, la sigo, la nostra figura esiste Ve la ricordate adesso, uomini e donne? Siamo dietro le quinte Siamo dietro le quinte perché i ragazzi si devono preparare Buonasera, benvenuti a Barmilano! Buonasera, benvenuti a Barmilano! Buonasera, che bella piazza! Salutiamo anche tanti ospiti Abbiamo qua, direttamente dalla Sardegna, ad Alguero Il nostro Pino di Gnuso Facciamo un applauso perché hanno inviato Andiamo in... Non in diretto ovviamente perché siamo inregistrato Però tu racconterei anche questa serata Ad Alguero, in Sardegna Per il Beach Summer Quindi salutiamo gli amici di Alguero e della Sardegna Fatevi sentire Milano! Guardate, ragazzi Non lo vado a lo gatto, vado Non lo vado a fare Ehi, non lo vado a me in giro, i bambolotti Questo è Balotelli Ah, è Balotelli Per favore Meraviglioso! Meraviglioso! Cos'è? Negro amaro Ma speri Ah, ho capito Tu vuoi introdurre il mondo del cabaret Con questa comicità un po' di passaleva Troppo, troppo, troppo Volevo comprare Questo, non so cosa è questo? Sì, è questo Che Papa lamenta Ma che è che Papa lamenta? Facciamo un applauso a Claudia Che ha lasciato in rosa per due minuti Poi ci tagli la cosa Perché sono una base a loro Sì, siamo qui 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 Non so che accadere Non so che accadere Non so che accadere Non so che accadere Guarda che ragazzo ti ammazza Ma che movimento di vaccino Noi, che accadere Sì Ascoltami Davvero il pacco è il pagno Ehi Mamma mia Iscrivano Voi quattro, e anche voi dietro qui la famiglia adams? Ma sei veramente una strunca Allora, abbiamo concluso, abbiamo finito finalmente Che serratone, cosa vi siete persi È stata una serata straordinaria, fredda, loro sono riusciti a scaldare il pubblico, vero? Sì! Tu dì sì, tu conciuffo, dì sì è vero Sì è vero! Brava! Dormiva come un ghiro, caso Dormiva, bravi ragazzi Allora, vogliamo... Agli amici di... Vogliamo salutare... CatalanTV Con una promessa che quando sarete ad Alguiero verrete limitanti a trovarci Sì, ma voi verrete noi a vedere lo spettacolo Certo Certo Claudio Borroni e anche Panzerotto qua vuole venire Va bene, e poi magari anche a Summer Beach A Summer Beach, veniamo! A tutti! Un abbraccio! Ciao!